ragazzi mi sono appena creato un secondo canale mi raccomando passateci tutti link in descrizione passateci tutti Thomas come le va la vita amico mio come le va allora io ho scritto quelle cose su whatsapp inizialmente perché io ho bisogno di soldi voglio un computer da gaming un bel monitor un bel mouse una bella testiera quindi ho deciso di fare una bella scommessa ma perché io volevo fare una scommessa con me proprio proprio con me perché perché tu hai rotto le palle di troffare solo bimbi ma hai capito troffi solo quei bimbi nutella e non troffi la gente come me non troffi king come me quelli forti come me tu sei il king per caso ah tu sei il king d'Italia tu sei il king di sto c***o invece che è d'Italia Thomas ma che è d'Italia Thomas che è d'Italia ammettito che vuoi fare questo scambio solo perché ti servono i soldi ma di sicuro perderai Thomas ma se perdi me li dovrai dare Thomas perché sennò di spattola testa io sono così sicura di vincere che scommetto ben 2000 euro va bene va bene sì 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 io voglio fare uno scambio serio e soprattutto onesto amico mio onesto ma ma assolutamente no e io te l'ho anche scritto su whatsapp ti ho detto facciamo uno scambio in cui io ti voglio truffare così se ti truffo sono il king e vinco la scommessa 2000 euro baby 2000 euro ma perché è ma perché mi vuoi truffare scusa c'era detto fatto ma che ti ho fatto io voglio vincere la scommessa va bene va bene va bene va bene però calma la mia Thomas calma di cazzo calma la mia mia cazzo calma di non mi faccio nervosire Thomas perché sono una persona che con la testa sto poco bene a me mi chiamano il pazzo furioso quindi Thomas non mi farà girare per favore non mi farà girare porca panetta c'è un trucchetto tutti i meccanismi segreti dell'fbi per truffarti no sì 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 va bene va bene va bene ma 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 tu per caso quanto quanto robaccia mio mio io c'ho esattamente 120 mila materiali oh addirittura io voglio tutto voglio tutto voglio tutto voglio tutto voglio tutto perché tu sei il king ma tu sei il king il discorso d'italia io sono il king d'italia sono il più ricco d'italia io ti incorono il king king te pony amico mio tu sei il king te pony capito tu sei il king te pony esattamente amico mio esattamente fuori ballangolino incominciano troppo troppo prima io troppo prima bene così già inizio a truffarti ma come fai a truffarmi sono già premessi allora ti spiego c'ho un agente segreto dentro casa tua che ha impostato una tele camerina si 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 dentro a un ragno nell'angolino di mamma io dovrei vedere nell'esatto momento in cui tu apri il muro e ti truffa tutto l'effettorio va bene sì 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 ma ma perché ma perché mi stai copiando scusa amico ma perché mi stai copiando ma perché mi stai copiando perché basta 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 che spacco la casa spacco oggi basta che spacco la casa porca paletta basta parla seriamente basta fai il serio vuoi fare questa scommessa facciamola però fa la persona seria perché sono di caccio non facciamo più niente non facciamo più un cazzo capito più un cazzo facciamo no e io dai vai 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 troppa ma però calma di talpalmo calmati io io lo ho però però calma di tutto va bene troppo troppo tu hai troppo però cambiate amico mio di troppo il mio mio interibente amico mio perché 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 non c'ho paura non c'ho paura di queste sfide perché tanto so perché tanto so come va a finire perché tanto so come va a finire amico mio con i ternati lettera cosco finendo asofere non per waria ho finito di droppare tra le viste quando c'è qua dentro ci sta il mio inventare esattamente ti piace thomas ti piace allora adesso devo chiamare una persona in particolare adesso io mi muto 5 secondi e arrivo a marco poste guardando le telecamere sì tanto mi sono mutato mi sento facciamo il botto marco tuttora gente fia giusto perfetto allora ascoltami adesso tu devi entrare nel computer con i siti della nasa e farlo crashare così l'apri il muro tutto 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 adesso ciao 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 ma se bene ma adesso amico mio senti thomas 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 e non sono fatti thomas thomas e non sono su io thomas e non sono scoperto ma stai un'altra domanda thomas vuoi fare la persona seria solo domani perché sono io dipende ti cacciano ma vuoi fare la persona seria siano thomas vuoi fare la persona seria siano io aiuti caccio in tre secondi conto fino a tre ti caccio conto di attenzione vuoi fare la persona seria basta 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 va bene dopo tutto l'inventario adesso vediamo che il team permessi e salti con una pecorella e salti con una pecorella si tieni permessi dai tomas però smettere di fare l'eccitato ma basta non ti eccitare più basta non ti eccitare dai ti li permessi troppo dai troppo tornuto troppo tornuto troppo troppo va bene salto troppo 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 a quando sta mi capisco vai troppo troppo sto quasi per finire ho quasi finito va bene va bene troppo troppo ho finito ho appena finito questo come fa a truffarmi tomas ma c'è il tuo disco allora io te lo spiego passo per passo io so il trucco per truffarti al mille per mille ma tu lo sai che io che io sono un metodo per come truffarti facilmente vuoi sapere qual è il metodo thomas vuoi sapere qual è il mero o guarda segura si è pronto? si è pronto! si si e tutto possibile di dir lo cioè essi dici esa cosa dici di ma hai successo qualcosa Thomas 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 mi hai successo qualcosa tu non dovevi truffarmi adesso ti succederà qualcosa di grave ma io ti segnalo alla NASA ti faccio segnalo ma perché si 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 ma stai giusto stai putto hai fatto una cosa gravissima non dovevi farlo ti sei messo nei guai seri io ti denuncio io ti denuncio alla NASA l'SBI basta fingere basta fingere basta fingere basta fingere basta fare il bimbo minchia allora Thomas io ti ho distrutto non devi fare il bambino non devi fare il bambino basta fare il bambino basta fare il bambino ti ho distrutto ma quale guai seri ma quale guai seri Thomas che siamo su un gioco di me ma quale guai seri Thomas che ti mette a fare il bimbo minchia che ti mette a fare il bimbo minchia basta Thomas fa la persona seria Thomas basta Thomas basta Thomas basta fare il bimbo minchia Thomas Giuro, giuro su Dio che ti caccia Giuro su Dio Io voglio che ti caccia A me non me ne frega, io voglio tutto, i soldi e le armi Adesso dobbiamo riscambiare subito Ah, addirittura, no Soldi e armi Riscambiamo e ti truffo Voglio tutto, voglio Allora, se tu oggi sei venuto qui a per curarmi Basta, Tomas, basta Basta, fa il bimbo minchia, Tomas Basta, ma vuoi fare una persona Sei onesta, e allora Io la roba te la voglio ridare, ma se tu fai il bimbo minchia Come cavolo faccio a ridarti la roba, Tomas Come cavolo faccio Spesso basta, mi dici, sì, scusa, fama, ridammi la roba E finiamo tutto, Tomas E finiamo tutto, invece tu no Fai il bambino ridicolo, porca paletta Sei un bambino ridicolo in questo momento, Tomas Devi crescere, porca paletta No, quanto tu non hai capito Ti sei messo nei quei seri Nei quei seri, va bene, va bene Allora, vai, ti denuncio Vabbè, vai, denuncia Denuncia, denuncia i bimbo minchia Denuncia, amico Io, la roba, te la volevo ridare Invece, non ti andrò più Basta, no, basta Anziu Che bambino ridicolo Cioè, c'è la roba Gliela volevo ridare E tu che fa il bimbo minchia Mi invito qua qualche fan E gli chiediamo la roba Sì, sì Vieni qua, fra Sei full o prena? Sei full o prena, fra? Dai, dai, prena Sono full, sono full Sei full Cioè, tutti full E allora E allora facciamo una cosa, amico mio Dato che sono tutti full Facciamo semplicemente Esci con il gruppo A posto Thomas, la prossima volta ti impari Thomas, la prossima volta ti impari Ti impari, Thomas Ti impari Ti impari Bum, 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 bum Ciao